Musica Un gruppo di bambini e ragazzi del movimento, provenienti da vari paesi, il 24 maggio ha fatto visita al Centro Internazionale dei Focolari a Rocca di Papa. Sono giunti in Italia in occasione della prima giornata mondiale dei bambini, indetta da Papa Francesco, che si è svolta a Roma il 25-26 maggio con la partecipazione di oltre 70.000 bambini. Musica Sono felice di essere stata scelta per rappresentare il Burundi e venire qui in Italia per incontrare Papa Francesco. E ho anche avuto la fortuna di essere una dei cento bambini che saranno accanto al Papa. Musica Ero molto emozionato di venire qui e conoscere Papa Francesco. Sono anche molto felice di conoscere il movimento dei Focolari e vedere come aiutano i bambini in tutto il mondo. Musica Non sono mai stato a Roma. È stato un po' faticoso viaggiare tutta la notte per arrivare qui. Sono molto contento di essere qui nella casa di Chiara. È molto bella, calma, pacifica e puoi sentire una bella atmosfera. Musica Nella cappella ho scritto una lettera per chiedere la pace nel mondo. Musica Ci siamo preparati molto per questo incontro. Abbiamo preparato dei regali che daremo ai bambini quando andremo da Margaret. Anche a Margaret abbiamo fatto un regalo, un tappeto. Musica Per me l'atto d'amore è fare una cosa, praticamente, se un bambino vuole una sedia e ci sono tutti i posti occupati. Tu ti stai per sedere, lo fai sedere a lui e tu resti in piedi. Musica 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 Musica